Superata la fase critica del maltempo, in Toscana vanno avanti i lavori di ripristino e pulizia e la conta dei danni di quelli che ci sono stati, ma è anche possibile fare una fotografia di dove invece, grazie ad investimenti e infrastrutture, si è evitato il peggio. È il caso della Cassa di Espansione del Vingone, un'opera realizzata dal Consorzio di Bonifica che ha fatto sì che il torrente non esondasse e che una parte di Scandicci, dunque, non finisse sott'acqua. In termini volumetrici sono volumi abbastanza ridotti, abbiamo avuto circa un metro di altezza, è stata fotografata all'interno della Cassa dalla Polizia Municipale e quindi si parla di circa 10.000 metri cubini in base. Acqua che altrimenti potenzialmente poteva entrare nelle case o nelle strade dell'abitato di Vingone. La Cassa di Espansione è un'opera di ingegneria idraulica che entra in funzione automaticamente e secondo il percorso che è stato studiato e messo a punto nelle sue vicinanze. Ci sono abitazioni e attività sul livello del torrente che, proprio grazie alla Cassa, hanno evitato allagamenti. La Cassa è stata progettata per entrare in funzione automaticamente sui livelli, quindi quando il livello del Vingone supera una determinata soglia prestabilita, l'acqua viene derivata dal Vingone verso la Cassa, quindi c'è un effetto di laminazione delle portate che transitano verso valle. La finalità è la messa in sicurezza dell'abitato.